Dov'è azzurra? Non c'è più! Eccola! Cosa sta? Sono praticamente abbracciati Tutto a posto, ragazzi? Tutto a posto? Oh! Eccola! 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 Dove vai? Dove vai? Cosa ci cucini azzurro oggi? Cosa ci cucini? Cosa? Le polpette? Le polpette? No. No? Cosa ci cucini? Ah, devi tirare fuori qua tutto. Aspetta, eh. C'è un casino, eh. Aia, aia. Ecco, ecco, ecco. Tutto incastrato. Vai, cucina. Cosa ci cucini? Ma quanto sei bella, tu. Quanto sei bella. Vai, apriamo? Mamma mia, che manate. Vai, 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 vai. e 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 aspetta che li cada qualcosa tutti qua come avvolto è buono o occhio ai 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 culettino più veloce più veloce ciao 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 ciao